Attenzione, tutti gli effetti sennori all'interno della storia sono intenzionali, quindi non sono errori durante l'heading. Grazie per l'attenzione e buona visione. In questo pre-story volevo ringraziare il mio amico Merkios che mi sta aiutando a fare questa bellissima storia, sia come storia ma sia con delle build. Infatti a questo mio amico gli piace molto buildare e quindi un giorno, prima delle riprese, ma che sono state già state ideate da me, Merkios viene qua da me vicino e mi dice, visto che tu hai ideato la storia e hai capito come farla, io, sottoscritto Merkios, mi dedicherò al building delle costruzioni e fu così che lui fece la maggior parte delle build, quindi dedico questo pre-story al mio amico e niente, noi ci vediamo in scena. Nel primo episodio della Minecraft Story, edit by Lolly Pastrix, i nostri due eroi hanno esplorato un po' il posto che li ci ricorda, ispezionando una casa. E in più hanno scoperto un nuovo mondo parallelo, chiamato Nether. Cosa faranno i nostri eroi in questo secondo episodio? Dove mi trovo? Ma, ti ricordi che l'altra volta avevamo dormito qua? Io mi ricordo bene. Vediamo le notizie di oggi. Dicono che oggi farà bello tempo. Guarda cosa ho trovato in questa cassa, un'enciclopedia. Andiamo ad esplorare. Vediamo qui cosa c'è. C'è una doccia. Oh, io prendo una doccia. Ok, allora ti lascio la privacy. A dopo. Marky, a che punto sei? Ah, ecco, ho finito. Adesso mi faccio io la doccia. Siamo da tre giorni che non ci si lava. D'accordo. A dopo. E vai via! Sono Udo! Ia! Ma che belle sti piante. Tu te ne intendi di piante? Beh, certo, sono un botanico. Cosa c'è dentro il figo? Non guardo la cucina. Vediamo. E' anche a vuoto. E' vuoto, io volevo il latte. Marky, dando che tu fai il latte, io vado a prendermi... Vado un attimo a esplorare bene la stanza. Ok? Ok. Per chi mi servirebbe ad oggetti. A dopo. Chiamami quando è pronto. Chiamami quando è pronto. Scotta! Scotta! Vabbè. E' potenziato tutti questi banner. Buona colazione. Oh. Un po' di latte. Cioè, Albe, non abbiamo trovato nessuno. Quindi ci impossessiamo noi di questa casa. Ehm, probabilmente sì. Sono ancora curioso di sapere dove ci troviamo. Ma... Esiste una bussola? Ah, forse... Controlla nell'inciclopedia. Controlla nell'inciclopedia. Sì, si può creare una bussola. Però non abbiamo ancora delle materie prime da utilizzare. Ma, secondo me, questa... Questa casa nasconde tante cose. Perché, vedi, c'è un passaggio segreto qua. C'è una... Ci sono delle portiere sotto altre cose. Vedi, campato. E quindi potrebbe nascondere altre cose. Oltre che a tutte queste cose. Ma, segui me. Intanto voglio prima capire dove ci troviamo. Vieni giù. Ti ricordi che nel nostro paese ci sono gli Isis? Quindi se io li vado vicino... Scappa, scappa. Oddio! 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 Segui me, segui me. Ok. Chiamiamole le autorità. Chiamiamo... Vedo dei cartelli, vedo dei cartelli, guarda. Scappiamo. Segui il sentierino, segui il sentiero. Welcome to California. Siamo in California? What? What the fuck? Che cavolo è? È una casa dei ricchi. Quindi, potrebbe nascondersi qualcosa all'interno di quella casa, tipo oro, ferro, qualcosa che ci serve molto. Non può essere che in questi dipinti non si nasconda niente. Guarda questo bel fiore, che bello. Quando mi ha risucchiato un fiore... No! No! Oddio! Markie, mi nascondivi qualcosa? No. Ma, prendo questa cassa. Tu prendi l'altra. Ok. Ma... Queste cose ci possono essere d'aiuto? Ma... Ma così sembriamo dei ladri? No, fermo! Fermo! No, 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 sembriamo proprio dei ladri. Ma, se il padrone non c'è, penso proprio... Guarda quanto oro! No, no! Sembriamo dei ladri! Poi si vengono... Poi si vengono i polizzotti. E poi si vengono i polizzotti qua. Quanti, 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 quanti... Ma chi si vengono i polizzotti e cosa gli diciamo? Che questa è la casa nostra? Eh, ma si vedono chi non è la casa nostra. Ci sarà scritto da... Secondo me ci sarà scritto da qualche parte che... Che è questa casa. Secondo me è meglio andare a cercare. Se no veramente poi ci prendono per pazzi Guarda qui ci sono delle coordinate in questa cassa Seguiamole Segui me ti porto io Eccoli guarda ne ho trovati abbia trattato Cos'è sta roba Sembra delle case Cos'è sta cosa Potrebbero esserci persone malvagie Ok Potrebbero essere i suoi servi Ma io pensavo che non erano buoni Infatti non sono buoni Potrebbe essere una brava persona Facciamo piano E io albi Ok Coltiva Guarda sono autosufficienti Ci sono delle coltivazioni Guarda hanno delle mucche Continua stendendo buoni Questa sembra una chiesa Sì Ce ne sono due Attento Cartografo E un chiedico Lasciali Potrebbero esserci d'aiuto Ok C'è una chiesa Oh Da qui ho una bella visuale di tutto il villaggio C'è una di quei cosi che è diventata una zombie verde No 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 Stanno uccidendo i nostri amici Guarda quello Non lo permetteremo Scusa albi No Scusa Merky No 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 Ok Scappiamo Scappiamo Qua c'è Qua ci sono delle persone Ciao Qui c'è un Rubiamoli tutto Via 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 Ruba 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 No Noi non siamo brave persone Noi uccidiamo queste persone Ma questi cosa sono? Questi risparmiali Se è un carico Un pescatore Un leather worker Un leather worker E un contadino Questi Lasciali E invece La no Gatto No Li lasciamo Ok Scappiamo Oddio qua c'è il Fabbro Vieni dentro Fabbro Non c'è niente Albi Non c'è niente Forse sarà passato Qualcuno prima A prenderli E chi Può essere Guarda quanti zombie Occhio Dietro L'Akbar L'Isis Dietro L'Isis È esploso Ok Vi salviamo noi Mucche Un altro Isis L'Infondo Ah mi stanno attaccando Ok Va bene Isis Grande Cavalli Cavalli Scadati Hai un orologio Hai un orologio Ci serve l'orologio Dobbiamo Dobbiamo sapere Quando è che viene Il giorno E così Occhio C'è la mucca No Una scheletro Scheletro Ho trovato uno scudo Prima Dentro l'acqua No Nelle casse Sto per morire Ci penso io Oddio Mi stavo Stavo lasciando Le penne Lorenzo Eh Lo sai che Il L'astuccio È un posto Molto pericoloso No Non sai perché Ho in onora Perché tu mi ci la fanno le penne Oddio Un nuovo mostro Non l'abbiamo mai visto Questo mostro Mi ha attaccato Mi ha attaccato Della fame No Sono affamato adesso Timi Timi Mangia Mangia C'è un Isis Isis Leather worker Scalgo te C'è uno zombie Sul villaggio Long shot Beach Uranio Non mi salto Uranio Um Torniamo a casa Torniamo a casa Torniamo a casa Ok ragazzi Oddio Marky Abbiamo sofferto tanto Secondo me è meglio Ritornare a casa Tornare a casa Esatto Ci sono ancora Quegli strani Zombie Mumie Oddio è vero Dietro di te Dietro di te Cosa È pieno di cercelli Guarda What Oddio Che rumore strano Che fanno Che rumore Inquiettante Ok Lo uccidi Ma ti droppano Sempre le stesse cose Degli altri Robi Verdi Delle cose Verdi Ma secondo te Ritorneremo mai Nella nostra amata giungla Non ne ho idea Oddio Oddio C'è un uomo Grande Alto Tre Ma io lo uccido Molto fino Prova ad attaccarlo Che c'è Dov'è Non c'è più Ma 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 secondo me è questo qua Non l'abbiamo mai visto Ecco All'in fondo L'ho visto Secondo me è questo Questo essere Potremmo trovare In un altro Bioma Come si può chiamare Come ti ricordi Che avevo visto Il nether Ti ricordi Ma Cosa è successo Abbiamo Siamo morti Sono morto E dove mi ho riportato A casa Ma che mondo Non è questo Oddio Quanto che 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 Acqua eternoelettrica Vabbè Ma Vabbè Ma Se non me E' meglio che la prossima Molta iniziamo un po' Sistemare questa casa Perché mi sembra un po' Se non è meglio Di sì Quindi Io direi Io direi Di Vedarci Al lavoro Ok Let's go 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 Go